Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra che la Juventus, con l'ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli al timone, stia valutando Piotr Zilinski, centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, come possibile acquisto per la prossima stagione. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i nostri prossimi video. È interessante notare che il centrocampista polacco non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il Napoli, che scade a giugno 2024. Di conseguenza, a partire da gennaio, Zilinski sarà libero di negoziare con qualsiasi squadra senza costi di trasferimento. Potrebbe quindi esserci un'opportunità per la Juventus di accaparrarsi Zilinski a parametro zero per rinforzare il suo centrocampo, specialmente alla luce delle incertezze legate alla situazione di Paul Pogba. Tuttavia, non sarà un affare semplice da chiudere. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, potrebbe fare un'eccezione alle sue politiche di mercato per consentire a Zilinski di restare all'ombra del Vesuvio, considerando il forte legame tra il giocatore e la città di Napoli, così come con i suoi tifosi. Tutto dipenderà, comunque, dalla decisione di Zilinski di rinnovare o meno il suo contratto con il Napoli e dalla sua volontà di trasferirsi a una squadra che è una storica rivale del suo attuale club. Da notare che Piotr Zilinski ha recentemente respinto un'offerta economica allettante dall'Arabia Saudita, ma finora non ha prolungato il suo contratto con il Napoli. Se non si arriverà a un accordo entro febbraio, Zilinski sarà libero di negoziare con altri club senza alcun costo. La Juventus sembra dimostrare un interesse concreto per il centrocampista polacco, e Giuntoli, avendo una profonda conoscenza del giocatore, sta considerando questa opportunità a parametro zero per la prossima stagione. Naturalmente, l'evolversi della situazione sarà fortemente influenzato dal destino del rinnovo contrattuale di Zilinski con il Napoli. Per voi come andrà a finire? Lasciate un mi piace e fatelo sapere in un commento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video.